Quante cose si possono fare in 25 anni? Quanti percorsi si possono intraprendere? Quanti chilometri si possono mettere dietro le spalle? Quante facce, quanti incontri, quanti volti, quante storie si possono ascoltare e raccontare? È esattamente quello che ha fatto Capri Hollywood in questo quarto di secolo, anche se sembra incredibile dirlo, ed è quello che ha fatto rendendoci partecipi di un evento straordinario straordinario come è straordinario ogni qual volta si infrecciono le voci e si annodano i percorsi di tante persone così diverse che hanno il cinema, il racconto, la narrazione come stella polare. Quindi tantissimi auguri a Capri Hollywood per questi suoi 25 anni luminosi, pieni di talento, pieni di straordinarietà in un mondo che ci vorrebbe sempre più legato all'ordinario. e tanti auguri al suo creatore, Pascal Vicedomini.